Un omaggio al giorno della memoria ai telespettatori di Reteotto con la straordinaria voce di Mario Del Grande. C'è un paio di scarpette rosse, numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica, Schultz, Monaco. C'è un paio di scarpette rosse in cima a un mucchio di scarpette infantili a Buchenwald. Erano di un bambino di tre anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi, bruciati nei forni. Ma il suo pianto lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero 24 per l'eternità. Perché i piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove. Perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole.